Il prossimo 26 maggio dalle 7 alle 23 si vota per il rinnovo del Parlamento europeo. Per esercitare il diritto di voto occorre esibire la tessera elettorale insieme ad un documento di riconoscimento. Nel caso in cui la tessera elettorale non sia più utilizzabile per mancanza dello spazio del timbro di certificazione del voto è possibile richiederne il duplicato esibendo la tessera originale completa presso le sedi delle 10 municipalità cittadine da lunedì al venerdì dalle 8 e 30 alle 18. Le 10 municipalità saranno aperte inoltre venerdì 24 dalle 9 alle 18, sabato 25 dalle 9 alle 18 e domenica 26 dalle 7 alle 23. Nel caso fosse deteriorata per chiedere il duplicato è necessario consegnare presso lo sportello la tessera originale. In caso di smarrimento o furto infine il duplicato potrà essere chiesto previa presentazione della denuncia presentata alle forze dell'ordine. In ogni caso è comunque possibile chiedere il rinnovo o il duplicato della tessera con rilascio immediato presso la sede del servizio elettorale presso il parco quadrifoglio in via dell'epomeo da lunedì al venerdì dalle 8 e 30 alle 12 e 30 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni feriali.